Panzerotti con le rape, frutti di marotti e salmone con crostini, antipasti, frutta secca, panettone e spumantone. Sono le pietanze che non mancheranno sulla tavola dei baresi per il cenone dei baresi. Che cosa bolla in pentola questa sera? Ah, 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 panzerotti. Panzerotti, rape, rotti, verde, verde. E apposta. Le rape con i panzerotti, un po' di antipasto, di salasto, un po' di frutti di mar, pasta, 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 pasta. Patate risaccozze, olive, tumultati, pomodorini. Vado da mia suocera, non preparo niente, vado da mia suocera. La cucina è mia madre, un po' di po', pesce spada, gamberata, frutta di mare con ooooh. Tutti i piatti tipici baressi, dal pesce al pesce, con lui sono molto drastica, lui mangia le sue costine, le sue croccante, drastica. Cosa preparerete questa sera a casa? Io ho il brodino vegetale, perché sono imbarazzato, perché sono vegetato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.